Che bello amici di Radio Bruno, c'è Gali! Ciao, come va? Ma molto bene, la tua canzone è stupenda, ma volevo sapere subito come ti stai preparando per questa sera la finale? Mi sto preparando, riscaldandomi la voce facendo mille interviste in giro. No, scherzo, ero in casa a Gali, ho provato il look di stasera, è bellissimo, e adesso andrò a riscaldarmi e a prepararmi a stare con le mie persone prima dello spettacolo. Allora, raccontaci un po', riesci a mangiare qualcosina prima oppure subito dopo l'esibizione? Ma quando mi ricordo mangio, tra una cosa e l'altra riesco a stuzzicare qualcosa. Hai mostrato dei look pazzeschi, super promosso da tutti, gli esperti, il pubblico a casa, Gli hai scelti personalmente, ti sei affidato a qualcuno? Grazie, ma siamo sempre io e la mia stylist Ramona Tabita, lavoriamo mai da otto anni insieme, e sì, discutiamo sempre, cioè scegliamo insieme ciò che vogliamo trasmettere, ecco, e ci divertiamo a vestirci. A proposito di trasmettere presenza più che altro a Liena, io non vedo Ricciolino, dov'è? Ricciolino si è perso oggi, adesso l'ho incontrato in diretta, è al mare e non sa come tornare in casa Gali, e infatti guarda, non sappiamo come fare perché tra interviste, prove, cose, non so come fare. Mi sto affidando un po' ai fan, sto facendo in modo che i fan me lo riportino in casa. Certo, perché altrimenti stasera ci mancherà, però secondo me ha fatto la furbata, ha vissuto al meglio questa settimana San Remesa. Vabbè, lui se la sta godendo tantissimo, è diventata una star ormai, su Instagram sta volando, è diventata una star a tutti gli effetti. Ma ci sarà il forum? Stiamo parlando della data di ottobre che è già in prevendita ed è... Non può mancare, non lo faccio tornare a casa prima del forum, per forza, ci deve essere. E ci sarà anche, dopo Sanremo, in merito alla lavorazione del tuo nuovo album, del tuo nuovo progetto? Sì, appena finirò qui, lavorerò allo spettacolo. Questa esperienza San Remesa mi sta aiutando tanto anche a ideare delle belle cose per lo spettacolo del 29 ottobre. Tra l'altro, ieri sono usciti i biglietti e stanno veramente volando. Il 29 ottobre tornerò al forum, esattamente dopo sei anni. Appena finirò qui, continuerò a lavorare al disco e lavorerò allo spettacolo. Hai dichiarato più volte, a me la musica esce così. Alle volte ci sono dei messaggi importanti, altre volte invece proprio sono canzoni che mi escono per far divertire la gente. Qui il messaggio è arrivato forte e chiaro, non soltanto in gara, ma anche nella serata delle cover. Sì, è una cosa importante per me il messaggio dal momento in cui so che sono su un palco con così tanta attenzione. Non vorrei sprecare l'occasione per dire qualcosa, per dare voce a chi non ne ha, ma sempre senza rinunciare al ritmo. Come si è visto, la canzone sta volando, piace tantissimo. C'è chi, tantissimi hanno capito il messaggio e lo stanno condividendo. Mi fa anche felice, mi dà speranza vedere un'Italia che condivide questo messaggio. Però ci sono anche, che ne so, magari i bambini, chi non riesce a ricevere il messaggio, semplicemente gode la musica. Gode la musica, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Volevi questo in questa settimana Sanremoese? Ti senti insomma a posto con il messaggio? Io mi sento vincitore già dalla prima serata per i fan. Sono vincitore già dalla prima serata. Tutti dicono che è la canzone del Sanremo 2024. Per me non mi aspettavo tutto questo. Già è tantissimo. Continuerò a dare il massimo. So che continueremo a dare il massimo anche stasera con i voti e tutto. Però per me tornerò a Baggio da vincitore comunque. Con la tua mamma che abbiamo visto e con la canzone che probabilmente era simbolo Sanremoese nella tua famiglia e quanto abbiamo capito che era l'italiano di Toto Cotugno che ha ammaggiato alla grande. Sì, è una canzone molto speciale per me. È l'ultimo ricordo che ho dei miei genitori assieme. È una canzone che quando ero bambino mia madre cantava tantissimo ed è anche per quello che mi esce più facile addirittura mi viene più facile cantare l'italiano di Toto Cotugno che tante altre mie canzoni. Proprio perché è come se ce l'avessi nel sangue già da quando sono bambino. E sì, ieri è stato bellissimo, è stato emozionante. Sono contento di vedere tutti attorno a me emozionati. Per me questa è la musica. E questa è la musica, questa è la tua musica, è tutto quello che ci hai spiegato. Quindi ti lasciamo a tutto l'iter pre-serata finale e ti vogliamo veramente ringraziare di cuore. Grazie a voi, grazie mille. Grazie mille a Gali. Grazie a voi. Grazie a voi.